Devi andare lì, prendere quella bambina e portarmela qui. È stata quella bambina, è stata lei a portarmi via il mio unico figlio. Sbarazzatene al più presto, per sempre. Ho bisogno del tuo aiuto. Il suo nome è Lus. Diventerai forte e coraggiosa. E sarai preziosa. Suo nonno ha scoperto tutto. Mi avete mentito! Non mi avete mai parlato di mio nonno! No! Fermati! Piccola! Nana dice che gli angeli custodi sono degli animali e il mio è una lucciola. Loro ci mostreranno sempre la strada giusta, piccola mia. Questo è un collegio. È una scuola dove si vive anche. Come ti chiami? Gioca. Posso fidarmi di te? Questa è una sola scuola. È un nascondiglio perfetto. Prima di tutto devi dirci tu chi sei e come sei finita qui! Mi sono perso qualcosa? Cosa è successo? Oh mio Dio, stai meglio! Dai, raccontati! Babbinoia! Babbinoia! Grazie ragazzi, mi state salvando la vita. Puoi fidarti. Lui è il maestro Marco, si insegna biologia. Qui è un po' come se fosse il nostro papà. Sono una camè. Noi non ce ne stiamo seduti ad aspettare che le cose accadano. Agiamo per fare andare le cose nel verso giusto. Non si sa mai se la scuola avrà bisogno davvero di un supereroe. Quando tutto si fa buio, tu cerca la luce dentro di te. Lei ti guiderà verso la strada migliore. Noi! 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 Non ci sia nulla via!